Siamo in un momento molto importante perché Petronas apre al pubblico una cosa che io considero una genialata, il Museo Industriale qui a Santena e credo sia molto importante perché è un momento culturale più che altro, oltre che industriale. Buongiorno. Buongiorno a tutti e grazie di essere qua. Hai ragione, per noi è un momento molto importante perché per la prima volta apriamo le porte al grande pubblico. Quindi il grande pubblico potrà venire a visitare il nostro centro ricerche all'interno del quale abbiamo aperto anche un museo. Un museo che racconta la nostra storia, più di cent'anni di storia. E il fatto di aver trovato spazio per questo museo all'interno del centro ricerche, quindi di un centro volto al futuro, non è una scelta fatta a caso ma ha una sua valenza, un suo significato molto importante. Proprio l'idea di avere un grande passato, di essere ancora leader nel presente ma di voler continuare ad esserlo anche nel futuro. E dalla vecchia Olio Fiat, da dove tutto nasce, una delle cose che in pochi sanno è che da qui, con un foglio bianco o a partire da una pagina in bianco di un computer, vengono sviluppati tutti i lubrificanti a livello globale. Sì, questo è vero. Qui a Santena, come dicevo in questo centro ricerche, è specializzato nella formulazione dei fluidi. Questo da sempre è stato un po' il nostro fiorello occhiello, nel senso che non solo produciamo e commercializziamo, ma formuliamo. Questo vuol dire avere la possibilità di avere stretti contatti con molti partner, costruttori di autoveicoli, e quindi essere in grado di formulare prodotti specifici per le richieste dei costruttori di veicoli, che siano essi autovetture, camion o anche mezzi agricoli. E quando diciamo formuliamo i prodotti, intendiamo anche quelli di Formula 1 del team Mercedes Petronas? Sì, siamo molto orgogliosi di questo. La storia ormai la sappiamo un po' tutti. Abbiamo avuto la possibilità di avere questa possibilità di formulare i prodotti anche per il team di Mercedes Formula 1 e abbiamo visto comunque i risultati. Siamo stati molto contenti di essere stati in grado di aiutarli a vincere i titoli mondiali, sia costruttori che per i piloti.